Ecco Brindelloni, so qui per ricordarvi come si mantengono le dovute distanze governative. Ecco a voi un servizio. Ecco a voi un servizio. Ecco a voi un metro, coi uomini, ma non avete visto la legge? Via, passa via. Ma cavatevi dalle palle e mi fate in cazza. Oh via, allora, lo vedete dove testa un metro, vi ho detto un metro di distanza, via. Eh, ma sotto i duri, peggio del travettino, eh, allora. Questo è tutto. Io ora ho da andare a casa, ho da fare la trippa con i fagioli e quindi ho una fretta che brucio. Ci vedremo e ci sentimo alla prossima diretta. Buona giornata. Ma chiude sta linea, no?